buongiorno a tutti ragazzi benvenuti al nostro video di oggi che come sempre comincerà bello mio cane rossa che come sempre inizierà con le energie generali che vi posso dire sono già belle e poi passeremo all'amore con il sacro maschile e con il sacro femminile che per qualcuno sarà proprio amore ma per qualcun altro che non sta interagendo con nessuno sarà comunque una descrizione delle nostre relazioni del nostro mondo relazionale e le energie generali per chi entrasse sul mio canale per la prima volta e per chi non lo sapesse le energie generali appunto si possono riferire ad amore lavoro amicizie famiglia qualsiasi cosa prendiamo una carta di queste prendiamo una carta di queste intanto ne è uscita anche una in più devo dire di quelle e vediamo che cosa abbiamo qui abbiamo una papessa la prensione e la dea era ma ok allora la prima carta a cadere intanto ve la faccio vedere meravigliosa un asso di coppe qui qualcuno offre qualcosa è un'offerta però non è un'offerta molto chiara e molto diretta perché l'asso è caduto orizzontale non diritto quindi questo asso orizzontale è un'offerta che vorrebbe arrivare a noi o vorrebbe partire da noi però c'è un qualcosa che manca per renderla grandiosa c'è un qualcosa che manca per renderla molto appariscente invece rimane un po' in sordina cioè sì è un'offerta che si vede ma non si vede c'è un sentimento dietro molto bello ma è un sentimento che rimane un po' nascosto ecco c'è ma non si vede proprio questo il punto tra l'altro accompagnata da carte molto belle perché c'è la dea era che parla di fedeltà quindi ecco è una proposta questo asso è un'offerta che tra l'altro qualcuno vi dico anche che potrebbe proprio arrivare potreste non accorgervene quello sarebbe un peccato però questa è un'offerta che davvero arriva in modo molto bello molto genuino qualcuno che in realtà vuole in qualche modo proteggerci o siamo noi che vogliamo proteggere qualcosa qualcosa che stiamo creando qualcosa che stiamo portando avanti potrebbe essere una relazione potrebbe essere un'idea di relazione potrebbe essere un progetto un lavoro perché no qualcuno potrebbe per esempio scegliere di fare un bambino ingrandire la famiglia qualcuno potrebbe proprio essere incinta ed ecco che in questo momento la cosa più importante è su cui puntare tutto tutta la propria energia è proprio quella ad ogni modo c'è un essere fedeli verso la propria idea verso la propria intenzione di fare le cose c'è un po di preoccupazione questo è vero c'è un argomento che ci sta preoccupando qualcosa che ci fa stare in apprensione ma la carta della papessa indica comunque il modo in cui stiamo gestendo questa energia in modo molto saggio molto controllato stiamo studiando la situazione stiamo cercando di capire cosa come dove quando ecco non è un atteggiamento ansioso che si proietta poi su un fare 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 compulsivo no è un atteggiamento un po ansioso che però sappiamo gestire quindi rimaniamo lì a rifletterci a guardarlo da fuori a osservarlo molto bello molto bello potrebbe anche esserci questa opzione ve la devo dare questa opzione per qualcuno di voi arriva l'asso di coppe e ci mette un po in ansia perché non sappiamo come reagire a questo asso di coppe cioè non sappiamo come reagire a questa offerta a questa proposta che sembra molto bella e sembra promettente però non siamo sicuri su come reagire quindi non rispondiamo subito ma stiamo lì a pensarci a osservare altra opzione viceversa noi andiamo verso qualcuno ma siamo un po preoccupati di quale potrebbe essere la reazione di questo qualcuno quindi rimaniamo un po così per vedere quale sarà la risposta inoltre queste tre carte ci dicono con l'eremita la forza e il sei di spade ci dicono che non sarà una risposta che arriverà subito né da una parte né dall'altra sia che si tratti di riceverla sia che si tratti di farla qui c'è un qualcosa su cui bisogna riflettere l'eremita vuole pensarci vuole meditarci sopra prendersi del tempo e anche se la voglia di rispondere subito c'è perché la carta della forza ci dice che dai sì c'è quest'istinto questo impulso questo impulso animalesco a rispondere subito si c'è però lo tratteniamo lo teniamo un po fermo un po a bada abbiamo imparato a controllare le emozioni non siamo più degli scemotti che ci facciamo trascinare abbiamo controllato a contenere le emozioni a tenerle per noi e il sei di spade in particolare ci dice anche che siamo pronti ad avanzare siamo pronti ad andare avanti su per il nostro cammino abbiamo fatto delle scelte e sappiamo qual è il posto più giusto per noi sappiamo cosa non va bene cosa non ci piace cosa ci ha fatto star male e allora perché rimanere fermi in un posto dove stiamo male piuttosto andiamo avanti è vero che certi problemi non si risolvono semplicemente scappando questo è vero e quello che rischiamo è proprio questo una fuga una fuga per evitare confronti per evitare situazioni stress e pensieri però questi pensieri e questi problemi che noi ci comunque ci trascineremo ci porteremo dietro possiamo risolverli con calma in un ambiente più accogliente possiamo risolverli più avanti non c'è poi tutta questa fretta di risolvere tutto subito se tu mi chiami ma io non sono pronta a parlare con te non sono pronta a risponderti subito io posso anche prendermi del tempo mi allontano mi faccio le mie cose penso alla mia vita e poi quando mi sentirò pronta ti risponderò non devo farlo necessariamente adesso ecco questo può essere un atteggiamento in effetti abbastanza saggio anche perché c'è il 6 di spade guardate un po qui qui l'acqua è agitata e qui l'acqua è calma quindi se io ti rispondessi subito o se tu rispondessi subito a me magari ci sarebbe un litigio ci sarebbe un problema ci sarebbe una condizione in cui la conversazione non va esattamente bene con calma potrebbe diventare una conversazione agitata e perché agitarsi non c'è motivo di agitarsi nella vita già la vita è difficile c'è bisogno pure di crearsi problemi no noi dobbiamo invece shiftare su una frequenza nella quale le difficoltà diventano semplicemente lezioni e nella quale dai problemi noi vediamo soluzioni e quindi non ci focalizziamo sul problema già dire solo questa parola da un punto di vista neurolinguistico crea danni ma noi ci focalizziamo su trovare soluzioni questo è invece l'approccio migliore passiamo però al sacro maschile al sacro femminile e se non siete soddisfatti dell'oracolo giornaliero e volete veramente risolvere o volete avere qualche consiglio per chiarirvi le idee potete sempre prenotare una sessione privata sapete benissimo come passiamo però al sacro maschile e al sacro femminile vediamo che cosa hanno da aggiungere le nostre carte ok vale anche per oggi secondo me il discorso del coaching più che una lettura potreste preferire in questa con questo tipo di energia una sessione di coaching o che so un pacchetto che le comprende entrambe perché io ho proprio la sensazione che ci sia qua bisogno di trovare strategie comportamentali alternative a quelle solite ma lo saprete voi 1 2 e 3 1 2 e 3 ok le nostre tre carte del maschile più una carta di queste ecco allora qui abbiamo un 10 di bastoni in questa sequenza un 10 di bastoni un 9 di spade e un appeso qui abbiamo un maschile che è appesantito da tutto è appesantito ed è stressato anche perché aspettare stare lì fermo come un appeso a testa sotto lo sta stressando e l'appeso non può fare nulla finché non cambia idea su certe cose finché non impara a guardare le cose da una prospettiva diversa l'appeso non può fare nulla rimane a testa sotto rimane appeso cioè l'unico modo che questo personaggio ha per liberarsi e per girarsi è imparare a guardare le cose in modo diverso imparare a vedere il mondo con occhi diversi quindi capisco che il maschile si senta appesantito e capisco che ci sia nell'aria stress magari anche un po di ansia un po di confusione ma comunque vi devo anche dire una cosa per qualcuno di voi non generale vi prego ma per qualcuno di voi qui c'è un maschile che ha accanto una persona nociva ingannatrice e inaffidabile cioè c'è un maschile che poiché voi siete uomini o donne scusate ho dimenticato di dirlo energia maschile ed energia femminile non vuol dire uomo e donna voi potreste anche essere delle donne che in questo momento stanno incarnando una forte energia maschile o viceversa quindi state attenti piuttosto che a uomo donna al tipo di energia che voi sentite di incarnare il maschile purtroppo potrebbe in alcuni casi essere accompagnato da un'energia tossica da un'energia nociva può essere un amico o un'amica che dà cattivi consigli che porta sulla cattiva strada che inganna che manipola qualcuno che intossica proprio l'ambiente qualcuno poco sincero qualcuno che qualcuno che dice bugie cioè state attenti davvero ragazzi non è per tutti ma c'è qualcuno di noi che si sta trovando ad avere accanto una persona brutta persona una bruttissima persona quindi se è così state attenti state attenti se non è così se non è quello che invece sta succedendo è che lo stress può portare noi a diventare delle brutte persone e fare delle scelte delle cose sbagliate anche questa è una cosa alla quale dobbiamo appunto puntare la nostra attenzione perché è sempre così è normale che sia così lo stress ci porta porta gli esseri umani a tirare fuori il lato peggiore di sé quando è che io divento antipatica fastidiosa quando sono arrabbiata quando sono triste quando sono delusa quando sono appesantita quando ho le palle piene di qualcosa io posso diventare fastidiosissima uh e tutti noi lo diventiamo perché fa parte della natura umana tiriamo fuori il nostro lato peggiore ma rischiamo di diventare persone nocive tossiche rischiamo di proprio di diventare pessimi quindi attenzione anche a questo intanto io vi dico guardiamoci intorno cerchiamo di capire se la persona tossica siamo noi che non sappiamo gestire bene le emozioni o è qualcuno accanto a noi cerchiamo appunto primo di capire questo e dopo la risolviamo e se avete dei dubbi qui ci va la lettura perché qua bisogna capire se c'è qualcuno che sta giocando sporco con noi o che ci sta in qualche modo spingendo verso brutte strade qui ci sta la lettura passiamo adesso al femminile con il 6 di denari il 10 di denari e il 9 di bastoni e prendiamo anche questa carta ok qui c'è un femminile preoccupato un femminile nonostante in realtà le cose stiano andando abbastanza bene cioè è un femminile disposto a dialogare con gli altri soprattutto con gli amici in questo momento questo è un femminile che si sta molto confrontando con gli amici con gli altri con perché no con le persone più vicine che poi che siano amicizie o familiari poco importa però è un femminile che si sta concentrando sul suo nucleo più intimo sulla casa sulla famiglia un femminile che sta anche interagendo con gli altri in una maniera molto bella molto carina però allo stesso tempo è un femminile stanco di certe cose che si sta preoccupando per qualcosa che si carica dei pensieri delle preoccupazioni purtroppo questo femminile non può risolvere il problema non può fare nulla per risolvere il problema o magari potrebbe ma sceglie di non farlo perché capisce che la cosa migliore da fare piuttosto è lasciare che le cose si risolvano da sole o in altro modo quindi tiene duro non si smuove più di tanto dalla situazione in cui si trova come si dice quando uno resiste ai colpi senza soffrirne più di tanto insomma non non fa niente questo femminile non fa niente prende i colpi tanto è in grado di reggerli questi colpi perché non la smuove nessuno ci pensa ogni tanto sì però dato che non può materialmente e fisicamente fare un qualcosa di realmente pratico non fa niente si concentra sulle cose belle che ha si concentra su sul parlare con gli altri magari sul confidarsi sullo scambio di idee sul fare le cose che la fanno star bene ecco qui c'è un femminile che secondo me si sta proprio concentrando sulle cose che lo fanno star bene perché altro non può fare e non è disposta a cedere non è disposta a scendere a compromessi passiamo adesso però alle ultime due carte e vediamo quali sono vediamo qual è il consiglio delle carte quindi prendiamone due una e due ecco infatti il consiglio è proprio questo e fregatene il consiglio è fregatene rilassati pensa ad altro fai il matto non ci pensare proprio cioè se ci sono dei problemi o delle cose in questo momento focalizzati su focalizzarti sul negativo non serve assolutamente a niente ma semmai la soluzione non pensarci non vederlo non sentirlo non ascoltarlo e se c'è della stanchezza e questo è il momento per riposare sicuramente è il momento per riposare e per non pensare alla stanchezza e con questo ragazzi io spero come sempre di esservi stata utile vi mando un saluto un abbraccio ci vediamo a domani e buona giornata a tutti ciao